Da oltre un lustro la questura di Pesaro Urbino cerca una nuova casa ed è una ricerca che riparte da zero dopo che l'ultimo piano di trasloco è naufragato su una comunicazione recapitata dall'Agenzia del Demanio al Comune, ovvero quello della destinazione nella sede dell'ex Intendenza di Finanza ancora in pieno centro storico. Costi esorbitanti e un cambio di direzione al Demanio l'hanno resa una soluzione non più percorribile secondo l'Agenzia a cinque anni dal primo protocollo d'intesa dedicato alla nuova questura. Dunque si riparte da zero e si riparte con l'idea di fare la questura del tutto nuova. Dopo giorni di polemiche politiche sia dall'opposizione di Matteo Ricci sia dai sindacati di polizia per un'incompiuta che continua a trascinarsi, il primo cittadino ha convocato questa mattina una conferenza per illustrare le ultime e le prossime linee d'azione. Intanto la premessa che di un bene dello Stato si dovrebbe occupare lo Stato nei suoi vari ministeri con l'Agenzia del Demanio. Nonostante questo in questi mesi, in questi anni ho cercato di aiutare a trovare una soluzione e siamo riusciti ad ottenere un finanziamento rafforzato fino a 6 milioni e 2 per sistemare l'ex Intendenza di Finanza. C'è stata molta lentezza da parte dell'Agenzia del Demanio regionale nel portare avanti il progetto, complicazioni nate nel percorso autorizzativo anche con l'intervento della sovrintendenza, però eravamo arrivati alla fine finché l'Agenzia del Demanio che nel frattempo ha cambiato i vertici nazionali ha cambiato strategia e ritiene molto più funzionale fare all'ex Intendenza di Finanza gli uffici come era previsto precedentemente. Quindi la buona notizia è che l'ex Intendenza di Finanza verrà riqualificata forse anche più velocemente del previsto per farci uffici pubblici, un bene chiuso da decine di anni. La notizia negativa è che non c'è luogo per fare la sede della Questura. Dunque l'ex Intendenza di Finanza verrà ristrutturata sì ma non per la nuova Questura. Nel frattempo il Comune si è dato da fare per trovare terreni alternativi all'obiettivo iniziale. Una ricerca che si è ristretta a due siti, uno in zona Celletta Santa Veneranda, l'altro in una zona torraccia che ospita già diverse caserme di forze dell'ordine. Ho chiesto all'Agenzia del Demagno se potevo dare una mano a un piano B. L'Agenzia del Demagno ha approvato di nuovo sui locali della caserma ma il Ministero della Difesa ha chiuso ancora una volta le porte e l'unica possibilità che loro vedono è quella di terreni comunali sui quali cedere il diritto di superficie urbanisticamente già a posto. Cioè dove terreni, dove nel piano regolatore siano previste strutture a servizio pubblico per almeno 5.500 metri quadri. Fatta questa ricerca che ovviamente ha stretto al minimo tutte le possibilità, sono emersi due terreni del Comune, uno vicino al Palasport e l'altro vicino al nuovo casello di Santa Veneranda per la realizzazione della nuova Questura. Noi siamo disponibili a mettere a disposizione questo terreno ma la palla adesso passa a chi ne ha competenza perché non è un tema che riguarda il Comune ma è un tema che adesso deve riguardare la Prefettura, la Questura e l'Agenzia del Demagno. Se decideranno che uno di quei due terreni può andare bene noi andremo in Consiglio Comunale e discuteremo in Consiglio Comunale sul diritto di superficie.